ciao io sono erica mozzoni tutor nell'associazione culturale astrolabio per la pittura sul tessuto e la pittura sul tetro oggi voglio dirvi a mio avviso qual è il beneficio maggiore nel praticare queste due discipline creative sicuramente il senso di soddisfazione immediato mentre si sta realizzando questa vostra creazione ma anche duraturo nel tempo di fatto immaginate di poter indossare voi stessi una t-shirt un abito decorati da voi stessi o magari bere un bicchiere d'acqua o specchiarsi in queste superfici decorati con le vostre mani inoltre non è così fondamentale avere una buona dote artistica per poter creare dei bellissimi lavori ciao ciao